Buongiorno ragazzi, anche se non è proprio un buongiorno perché sta già a pioggere l'anno, davano piogge alle 6 però più vigina già adesso, ma porca vacca! Oggi siamo qua sempre Monza Bissa, Cibolla Bissa, Comodoro e l'idea era quella di fare una bella Game of Bike tra me e Toto. Ma che cos'è una Game of Bike? Sarà un 1 vs 1, me contro Toto, il primo rider imposta un trick, il secondo rider lo deve ricopiare, semplicissimo. Il rider che sbaglia prende una lettera fino a completare la parola bicicletta, quindi potrebbe chiamarsi più Game of Bicicletta che Game of Bike però vabbè. Se sbaglia ovviamente a impostare il trick, il turno passa all'altro giocatore. Direi che possiamo già andare a protezionarci e iniziare con questo gioco prima che inizia a piovere. Soprattutto sta andando sta copro del merda. Bene, allora adesso facciamo bim bum bambino per decidere chi parte. Sottolineiamo? Sottolinealo? Zero riscaldamento. Tasso, carta, forbice. Ok, va bene, inizi tu. Ho vinto! Capiamo il mondo! Allora, inizio io? Ok, inizio io? Inizio io? Inizio io? Inizio io? Inizio io, inizia lui! Oppo 100. Lui lo fa troppo bene, figo, oppo 100. No, non è giusto! Io non ho ancora girato questa cosa, il video scorso era in VM. Recupera tutto! Oh! Bello dai. Siccome sono autolesionista e mi piace farmi male, proviamo a fare Oppo 360. Che lui ce l'ha tranquillo, il problema sono io. Quindi prima che lo imposti lui lo imposto io così almeno. Oh! Era troppo indietro! Volevo farlo! Ok, il nostro Toto ci ha impostato no foot, one hand. No! Il problema è che lo devo fare io, cazzo! No! Ivo letterino. Letterivo. Because we are stronzi, impostiamo un trick che a Toto sta estremamente sul capo. Can-can, però in 3-6. Ah, subito. 3-6 can-can. Bastardo. È iniziata la guerra, ragazzi. No! Guarda! Che palle, Ivo, però, eh. Questi trick subito. Ecco. Fatto. Ecco, io adesso sono indignato. Insegnamelo, per favore, velocemente. Ragazzi, a me si stacca il piede dietro. Devi spingere verso il basso. Devi tirare leggermente su con le braccia e spingere giù il piede. Così ti sta attaccata. Ragazzi, mi raccomando. Mettere un like a questi video, iscrivervi e attivare la campanella. Se attivate la campanella, avete tutte le notifiche di tutti i nuovi video che usciranno. Siete invincibili. Non vi batte nessuno. Comunque è stata una mossa molto infame, lo ammetto. Però il bello del nostro Toto è che potrebbe, per spirito competitivo, riuscire a farcela. Perché quando si mette in testa delle cose, le fa... È atterrato in Can-Can, non ci credo! Che cazzo dici? Diciamo che era tra sei Can-Can. All'Amazzone, come si può dire. Però l'avevo quasi capito in aria. Ho detto, oh, non mi si è staccato il piede. Poi ho dimenticato di ritornare indietro. Ho detto, vabbè. Il problema grosso è che ora tocca a lui. Pensa, pensa, pensa. Oh, rabbia. Tra sei X-Up to bar. Il problema è che la chiuderà alla prima, cazzo. Devo dire che purtroppo è stato eseguito alla perfezione. Si sottolineiamo che tutto ciò, senza aver fatto ancora un salto sul malci grande, quindi... No. Siamo stati scammati così. Io non è stardo. E nel frattempo io sono a B, I, e lui a B. Bastardo. 100 bar in quarter. Il ragazzo è molto caldo. Oh, shit. Il problema è che è stretta, ragazzi. Cioè, in quarter si fa easy. Però qua è molto... Dai e chicco. Diciamo che un po' me l'aspettavo, ma non del tutto. Ah, facciamo un oppo tre. Prima non l'hai chiuso. Prima non l'hai chiuso, però lo puoi fare tranquillamente. Vedete perché prima volevo impostarlo io. Adesso lui lo fa, lo scritto sicuro. Oh my gosh. C'è la sbattuta in faccia così facile facile. No. Ma in realtà poi sul bag lo faccio perfetto alla prima, non capisco. Allora, sai che se ti dico, piccolo stronzetto, 5 a 4. Ma deve essere giusto di rotazione. Cioè, anche lì non devi andare over. E me ne esco anche, senza metter giù i piedi. In un video intero di Toto abbiamo provato a fare solo 180 e uscirne dritti. Niente. 5 a 4 e esco via così. No. Era già 7. E non era neanche così scomposto. Oppo bar bar. Potrei sbagliarlo, però perlomeno è... Eh. Vada bel bambino! Ah, cazzarola! Era lì, eh? Era lì. Magari l'hai già fatto. Sulla rampa del bag. Tac, no end to fake it. Ah, ok. Forse l'ho fatto quando non giro in skate park. Molto veloce, bisogna essere con le mani. E poi soprattutto non attirare col freno schiacciato. Eh, se no fai... Vediamo il nostro eroe. Quindi chi è? Fuccio. Stato in altissimo, cazzo. Slow motion. Allora, siccome non è che ha sbagliato, ma non l'ha neanche fatto bene. Lo rifai. Dai, un altro try. No, ho sbagliato. Non l'ho fatto. Ho sbagliato, ragazzi, purtroppo. Bici. Ivo sta facendo il cattivo perché sta facendo le cose da skate park. Adesso facciamo un trick che sta praticamente sulle palle che è no foot can can sul mulch. Mi ha toccato nel profondo. Vediamo quanto riesce a essere stiloso. Molto bello, piacevole. Però lo devo fare io. Quindi non molto piacevole. Attenzione. Sulla rampa del leggy sempre. Bar to fake it. Che p... È troppo facile. Quando lo fa così, dici, va bene, lo faccio anch'io, easy. Mi piace l'ho. Mi piace l'ho. Uh, uh, uh. Hello bar. Mi piace l'ho. Ok, allora facciamo un flip bar X up sul mulch grande. Non faccio flip bar dall'anno scorso, praticamente, però ok. Tra l'altro io ho un po' di paura alle altezze, quindi... Uh, che paura. Oh mio Dio! Ce l'ha sbattuto in faccia così. Meglio in faccia che in cu... Ah! Diciamo che ragazzi, flip bar su un salto vero... Non lo faccio da questo video qua di Vigno, cioè ragazzi. Quasi un anno è passato. Quindi capibile, ma abbiamo sbagliato, quindi si ha struttosto. Quindi backflip can can sul beghino. Perché siamo clementi, perché provarlo sul duro... Se chi non lo fa mai, che si incastra coi piedi, non è divertente. Va bene, lo provo sul bag. Grazie. Ok, ok! Vabbè, ringraziamo Ivo che almeno me lo fa fare sul bag, dai. Credici che è tuo. Te nero mai andato. Vediamo il replay, dai. Vedi? Non si sa mai, oggi ho imparato un trick nuovo. One foot can per me è proprio mio tallone d'Achille. Buongiorno. Ah, faccio whip to bar sul mulch piccolo. Safe nel senso più sicuro, è che se lo sbaglio non muori. Però difficile, perché è tecnico. Va bene, dai. Vadi, bel bambino! Ah, è piccolo! L'avevo avvisato il bambinello, che era piccolo. Ok, 7.20 sul bag, però piatto. Lui fa sempre sette cose. Oh, ehi! Bel bambino! Morto. Buongiorno! Ah, proprio rimane lì da sola. Vado. Vado! Ah! Vai, vai, vai! Posso? Dagli a chicchello! No! Mancavano 90 gradi! Avevo fatto giusto di pesi. Ho mancato la spinta, mi era tipo uscito il davanti. Ok. Non è così difficile? Non l'hai mai provato? Finger whip sul bag, dai. È facilissimo, io vi giuro che è facilissimo. Lascia andare via la bici così. La prendi proprio, la prendi, se è che fai così. Morte assicurata, ragazzi, morte assicurata. Stavo bene nel letto. Attenzione, vediamo l'eroe nazionale. Non l'avevi aperto male, secondo me, eh? No, eh, ci ho pensato un po' tanto, forse. Siccome non te la voglio dare vinta, brutto pezzo di culo, tu sai fare tear tap? Sì, so fare tear tap. L'incipio, no. Afflet, 180 tear tap. Quanti rimbalzi voi, bar spin? Oh, shit! Cazzo difficile questa, va bene, dai. Aspetta. Oh! Oh, oh! Salvatore Ganaci. No, non ci ha fatto. Non ci ha fatto più. Grandissimo. Oh, è bello perché ci ha riprovato e riprovato poi. E sai cosa faccio adesso? Bisogna fare dieci saltelli in fugem. Posso, lettera, grazie. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, undici. Lo facciamo per la patria, anche se falliremo miseramente. Due, siamo pure caduti. Non mi ha sentificato. Qui adesso andiamo in aria chilling, ma non chilliamo. Perché facciamo quella che ho messo in un mio post Instagram. E ragazzi, se non mi seguite su Instagram, dovete seguirmi su Instagram per vedere tutte queste chicche. Adesso, da da parte, devi saltare su qua. Eh già. E poi, ti stabilizzi e scendendo di là fai i bar spin. E già ho l'arsu. E' quello il problema. E' alto come la ruota. Uh, vedi al pelo, sai qua. Allora. Bastardo, ste cose, oh, incredibile. Dai, Echico. Uh, al pelo. E non è sceso dalla bici, ragazzi. Vale ancora. Sì. No. Ehi, facile così. Non ho messo i piedi. Uh. Oh. No, basta, no. Ah, no. Bastardo. Allora facciamo una bella cosa Io ti dico double whip Io lo faccio sul mulch Tu lo devi chiudere sul bag Era 100% sure Sicuro che lo faceva Eccolo Ah Cazzo paurissimo Metterino Una letta Dato che sta già godendo 3-6 tu fechi Vai stretto Ivo Allora dai dai Bastardo Ma quanto è stretto dai Era stretta come il tuo buco del cu Fai lo sbrufoncello Allora gli facciamo fare Flip sul mulch piccolo In can can Partendo in can can No No Io non voglio venire Vaffa c***o E si rimane così si atterra in can can Ma dici qualcosa Ma vaffa c***o Allora devi far passare la gamba dall'altra parte del telaio E saltare in can can ragazzi Salta con la gamba dall'altra parte Cioè con un piede solo sul pedale Io mi dissocio da questa affermità Non è possibile Ragazzi sto bramando La vittoria è un passo Volevo proprio arrivare in questo momento Perché volevo vedere Ivo in difficoltà Però lo può fare Lo può fare vediamo Ok can can L'ho mollata io Non è che è andata via Mi sono cagata d'oltre Essendo che ce n'è una Ho fatto proprio così In rampa Ho detto no Ma vaffa c***o Hai un altro tentativo in teoria Oh c***o Perché non poteva finire qua Andiamo e lo facciamo Dai c***o Oh Che cerchiata Ho vinto Campione del mondo Mi ha la mano Oh my god Aiuto Peccato Eri solo un filo corto adesso Mi è piaciuto bravo Ci sta È stato bello ragazzi Finché è durato Porca macca cosa di tu scappare Lato Ho vinto Sono Oh Poi la goccia La goccia La goccia Ale Buttala giù Era light però Era light Bene ragazzi Quindi sfortunatamente In questo uno versus uno Io ho avuto la peggio Mi sono anche un po' incastrato la caviglia Mi puoi battere Qui Nella mia zona Nella casa tua Ragazzi Lasciate un like Iscrivetevi E soprattutto nei commenti Fatemi sapere se volete una seconda parte In un altro posto Da qualche altra parte In contesti diversi Sbizzarritevi E fatemelo sapere